Un buon pomeriggio, buon sabato e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con il dibattito sulla grande peschiara perché continua appunto il dibattito sul progetto di fusione delle città di Montesilvano e Spoltore con il capoluogo nato dal referendum del 2014. Ieri pomeriggio all'Aurum di Pescara si è dibattuto in un convegno sul futuro e sull'impostazione della prossima città metropolitana. Tutti i dettagli nel servizio di Alfredo Primante. Se un bambino non cresce e rimane nano non potrà evolvere e affermarsi. Si è questa la metafora che l'ex ministro Franco Bassanini ha utilizzato per descrivere i processi di fusione delle città che si stanno mettendo in moto e di cui la grande pescara fa parte. Processi che ciascuno con i suoi tempi non sono più procrastinabili, dice, se si vuole restare competitivi e attrattivi. La dimensione ottimale per quelli che hanno capito che per avere il massimo della nuova tecnologia e della scienza non occorre andare a Roma o andare a Milano, lo si potrà fare ormai restando in Abruzzo e però costruendo anche un sistema istituzionale che sia in grado di far fronte nel modo migliore ai problemi del territorio. La fusione di Pescara con Montesilvano e Spoltore è stata al centro dell'incontro di ieri pomeriggio organizzato dalla regione Abruzzo all'Aurum di Pescara e intitolato Città nuove sconfinate. Un dibattito per discutere sull'organizzazione, la funzionalità e la socialità della nuova città metropolitana in via di formazione. Il presidente della regione Abruzzo d'Alfonso a conclusione degli interventi, tra gli altri del Vescovo di Chieti Bruno Forte e del sociologo Giuseppe De Rita, oltre che dell'ex ministro Bassanini, ha preso l'impegno di concludere l'iter di approvazione della legge regionale sulla Grande Pescara entro fine gennaio. Città metropolitana che al di là delle fisiologiche resistenze, testimoniate dall'assenza dei primi cittadini di Spoltore e Montesilvano, di Lorito e Maragno, per gli elettori è stata una priorità espressa con il 70% di sì dei cittadini e dei tre comuni coinvolti chiamati nel 2014 a votare sul tema con un referendum. D'Alfonso ha indicato anche la data dei 100 anni dalla fondazione di Pescara nel 2027, come deadline per portare a termine la costruzione di una grande città metropolitana, polo attrattivo regionale del centro Italia, completando così la fusione che ha dato i Natali a Pescara nel 1927, nata dai comuni di Castellammare Adriatico e appunto Pescara. Cambiamo argomento adesso, l'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso, scrive al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui presenza è prevista in Abruzzo per dopodomani, lunedì 15 gennaio, per l'evento celebrativo dei 30 anni di attività scientifica dei laboratori nazionali del Gran Sasso, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riproponendo il tema dell'interferenza con l'acquifero del Gran Sasso, sia dei laboratori sotterranei di fisica nucleare, sia delle gallerie autostradali della A24. La lettera indirizzata al Presidente Mattarella è stata consegnata al Prefetto di Teramo questa mattina. La consegna era stata concordata con l'ufficio del cerimoniale della Presidenza della Repubblica, al quale l'osservatorio si era rivolto nei giorni scorsi proprio in previsione della visita del Capo dello Stato, come detta, prevista per dopodomani. Cambiamo argomento adesso. Dopo l'assoluzione dal reato di tentata estorsione e tentata concussione da parte del Tribunale di Bari nell'ambito del processo su presunti ricatti al Presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, il magistrato d'origine pescarese Fabio Papa, che è stato in servizio anche al Tribunale Civile di Chieti, oltre che alla Procura di Campobasso, è stato reintegrato nel suo ruolo in Molise per decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. Vediamo. Il Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM, ha disposto il reintegro di Fabio Papa presso la Procura Generale di Campobasso, con funzioni di magistrato distrettuale requirente. Papa, già PM di quella procura, era stato oggetto di provvedimento disciplinare a seguito dei fatti giudiziari confluiti nel noto processo di Bari. Accusato dal governatore Frattura di aver aperto l'indagine Biocom a suo carico quale ritorsione giudiziaria per il mancato varo di una legge sull'editoria favorevole a Telemolise, Fabio Papa era finito sotto processo insieme al direttore di Telemolise, Manuela Petescia, con un gravissimo elenco di accuse, poi tutte smontate. Da quell'aula, Papa e Petescia sono usciti completamente puliti, assolti, entrambi, da tutte le accuse con formula piena. Era il 4 maggio del 2017, dunque da quel momento si è avviato l'iter di revisione dei provvedimenti disciplinari al Consiglio Superiore della Magistratura. La decisione del CSM è stata presa dopo l'udienza del 6 novembre scorso, dove il magistrato Fabio Papa era stato assistito dall'avvocato Fabio Baranello del foro di Campobasso. Ora il Ministero di Giustizia, con separato provvedimento, dovrà stabilire i tempi entro i quali Fabio Papa dovrà tornare ad esercitare le proprie funzioni, tempi che, sempre secondo l'avvocato Baranello, si annunciano brevi. Individuato un falso finanziere che da diverso tempo nel comune di Sulmona truffava i titolari di attività commerciali, cui chiedeva soldi utilizzando a pretesto l'organizzazione di eventi pubblici. Si tratta di un 48enne di origine campane che dovrà ora rispondere del reato di truffa. Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni giunte da imprenditori insospettiti dall'anomala richiesta di denaro fatta da un uomo che si qualificava come ispettore della Guardia di Finanza dell'Aquila e a volte redigeva e rilasciava alle vittime dei raggiri verbali falsi ed autorizzazioni amministrative fittizie. Secondo altre segnalazioni, lo stesso soggetto a volte si sarebbe presentato come avvocato, prospettando ingenti risarcimento nell'ambito delle cause civili ed amministrative che avrebbe condotto in loro favore. Presentati i lavori per l'adeguamento e il miglioramento di alcuni edifici scolastici superiori della provincia di Pescara grazie agli stanziamenti economici richiesti dall'ente presieduto da Antonio Di Marco e ottenuti attraverso i canali di finanziamento nazionali con la collaborazione istituzionale della Regione. 16 sono i milioni di euro a disposizione. Il servizio di Paolo Renzetti. È una sfida adesso da mettere in cantiere nel senso far partire gli appalti, i lavori perché il sistema scuole in Abruzzo e soprattutto della provincia di Pescara merita le giuste risposte in tempi celeri, lo sanno i dirigenti, lo sanno i rappresentanti degli istituti da parte dei ragazzi e dei genitori. Noi su questo abbiamo lavorato in modo convinto con tutto il Consiglio provinciale sia maggioranza che opposizione che ringrazio perché sull'obiettivo della sicurezza delle scuole non c'è stata mai divisione come pochissime volte c'è stata divisione in Consiglio provinciale ma su questi temi c'è massima sintonia affinché tutto si faccia al più presto. Noi stiamo lavorando con questa tenacia, con questa determinazione e siamo convinti di aver fatto un ottimo lavoro e ringrazio anche la Regione, il Presidente che ha scommesso sulle richieste che noi come provincia abbiamo avanzato e che nei fatti determinavano le soluzioni attese dal sistema delle scuole della provincia di Pescara. Noi su quattro istituti abbiamo questo anno per la progettazione come ci dice il Cipe e il 2019 invece sarà l'anno dell'appalto e dell'avvio dei lavori. Per gli altri istituti quindi che abbiamo citato oggi hanno tempi più veloci perché i finanziamenti sono immediati, già disponibili, già programmati in bilancio e hanno soltanto la necessità del progetto esecutivo definitivo e quindi la procedura di gara d'appalto. Io sono convinto che dopo luglio i lavori potrebbero in alcuni istituti già partire e quindi cominciare a dare risposte attese. Presentati questa mattina dalla giunta Alessandrini all'hotel Villa Immacolata i lavori di riqualificazione del polo scolastico San Silvestro. Ovviamente siamo a Pescara con annesso centro polifunzionale. Gli edifici saranno tutti riqualificati secondo i più moderni criteri antisismici e di efficientamento energetico. Un intervento importante di 800 mila euro che riqualificherà e adeguerà dal punto di vista sismico ed energetico la scuola Lioni Cascella di San Silvestro ma adeguerà anche ai criteri di efficienza, di nuova fruibilità degli spazi e perché no anche di bellezza questa struttura costruita negli anni 70. Un intervento necessario che ristabilisce da un punto di vista energenico l'efficienza come dicevo prima ma che poi va nel solco del lavoro che stiamo facendo su tutti gli edifici scolastici, su 53 edifici scolastici della città di Pescara che puntano all'adeguamento sismico e all'efficienza energetica ma anche come dicevo prima dei criteri che servono per la formazione dei ragazzi che devono formarsi in una scuola sicura ma d'altro canto in una scuola bella e fruibile. Oggi avete deciso tra l'altro di illustrare questo progetto in questa assemblea pubblica con i residenti di San Silvestro e con i genitori dei ragazzi che frequentano la scuola. Sì ci teniamo perché è un lavoro importante, lo abbiamo condiviso con la preside, con i genitori, con le famiglie anche perché ogni realizzazione comporta un periodo di sacrificio cioè di chiusura della struttura della scuola di San Silvestro e i ragazzi verranno trasferiti nella scuola di via Rubicone. Noi crediamo molto in questa progettualità, crediamo molto nella sicurezza delle scuole e sicuramente completeremo questo lavoro di consolidamento e di rammendo tra la città consolidata e le periferie con il bando di 18 milioni di euro che andrà a intervenire in tutti quei quartieri che negli anni non hanno conosciuto il sole degli interventi. Questa mattina era fissato il consiglio comunale di Montorio al Vomano in seconda convocazione consiglio nel quale il sindaco Gianni Dicente e quello che restava nella sua maggioranza speravano di effettuare la surroga di parte dei consiglieri dimissionari e salvare il comune di Montorio dal commissariamento. Ma non sarà possibile perché nella serata di ieri il prefetto di Teramo Gabriella Patrizzi dopo aver valutato la situazione che si era venuta a creare ha sciolto il consiglio comunale nominando come commissario il vicequestore aggiunto Maria Laura Liberatore. Sarà quest'ultima adesso a traghettare il comune fino alle nuove elezioni di primavera. Ci spostiamo a Lanciano adesso lavori di consolidamento in corso all'antica porta San Biagio, l'unica rimasta delle nove porte di accesso alla città medievale. Vediamo. Procedono i lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico delle mura limitrofe di porta San Biagio nel quartiere storico di Lanciano Vecchia che hanno avuto inizio lo scorso 15 settembre e che entro la primavera saranno conclusi. L'intervento è finanziato interamente da fondi della regione Abruzzo per 400 mila euro. Il progetto è stato redatto su incarico dell'amministrazione comunale dalla società d'ingegneria EuroSRL di Guardia Grele a firma dell'architetto Giampiero Garzarella. Le mura di porta San Biagio, costruita nel XII secolo e l'unica superstite delle nove porte che facevano parte della cinta muraria cittadina, sono interessate da anni da problemi di dissesti dovuti anche a eventi meteorologici intensi. La situazione si è ulteriormente aggravata con le eccezionali precipitazioni degli ultimi anni che hanno anche causato un crollo parziale e diverse gravi lesioni alle mura. L'intervento in corso prevede la scomposizione dei mattoni puliti e catalogati per la successiva ricomposizione finale, la realizzazione delle trincee drenanti alla base del muro e la posa di 22 pali di cemento armato. Un sistema di contrafforti garantirà la tenuta e la sicurezza delle mura. A completamento dell'opera, i lavori sono a cura dell'Igea Costruzione di Brescia, il muro verrà rivestito con i mattoni originari, secondo l'inclinazione e la conformazione originaria e sarà una rampa in calcestruzzo al posto dell'attuale gradinata di Ciottoli. La porta di San Biagio era una delle più importanti della città in quanto rivolta verso il mare, dunque fondamentale per accogliere a Lanciano mercanti anche provenienti dall'altra sponda del mare Adriatico nei tempi d'oro di Anxanum, città delle fiere. Ci spostiamo all'Aquila adesso, il Comune blocca le attività della consulta giovanile, lo sfogo dei giovani democratici, la Giunta ancora non recepisce le modifiche allo statuto. Vediamo. La Giunta comunale ancora non recepisce le modifiche approvate due mesi fa per la modifica appunto dello statuto della consulta giovanile. A lanciare l'allarme Mario Schettino dei Giovani Democratici, una mancanza sconcertante, così la definisce. A giorni infatti arriverà la scadenza per il rinnovo della consulta giovanile e questa mancanza rischia di bloccare completamente l'attività. Il contributo richiesto all'Aggiunta per il proseguimento dell'ITER è infatti semplicemente quello di certificare accogliere un lavoro già eseguito, praticamente un copia e incolla. Dunque non si capisce perché non arrivi questa approvazione in giunta. Dal 2 novembre quando la consulta giovanile si è riunita e ha approvato le modifiche di statuto, nonostante un sollecito nuovamente fatto dal coordinatore della consulta il 20 di dicembre, a tutt'oggi ancora non abbiamo le modifiche di statuto che abbiamo richiesto tra l'altro in ottemperanza delle richieste fatte dal Consiglio Comunale. Se non abbiamo queste modifiche non riusciremo poi e gli uffici non riusciranno a ribandire i nuovi posti per la consulta giovanile. Quindi ci troviamo in un impasse di rallentamento. Evidentemente l'amministrazione non vuole procedere per atti amministrativi ma anzi non riesce nemmeno a semplicemente ratificare delle procedure che già sono state fatte. Quanto è importante la consulta giovanile per le varie attività che si fanno? La consulta giovanile dopo un primo momento di stallo anche per capire il suo funzionamento, nonostante la difficoltà nella creazione della consulta stessa ormai due anni fa, adesso aveva iniziato a lavorare, stava producendo dei dossier sulla condizione giovanile della città dell'Aquila, ha organizzato degli eventi nella perdonanza e all'esterno presentazioni di libri. Senza questo ci ritroviamo che a pochi giorni dalla scadenza del mandato biennale della prima consulta giovanile non abbiamo i tempi tecnici di attuazione per rinnovarla. Quindi rischeremo di avere alcuni mesi, perché ci sono delle tempistiche da statuto, che bloccano l'organo praticamente. Nessun contatto col Comune? Non vi hanno dato rassicurazioni? Quando abbiamo approvato le modifiche siamo stati rassicurati che sarebbe stato un passaggio velocissimo, anche perché era semplicemente fare un copio in colla banalmente di quello che è stato fatto tra le modifiche dei ragazzi all'interno della consulta. Evidentemente come amministrazione preferiscono fare più dei programmi elettorali piuttosto che fare degli atti amministrativi. Montesilvano ha voluto ricordare la figura del medico e ristoratore Nicola Salvatorelli, scomparso la scorsa estate dedicandogli un convegno destinato ad approfondire tutti gli aspetti legati al rapporto tra alimentazione e benessere fisico. Nicolomito, Franco Berrino, Ettore Cianchetti, Luigi Perruzza sono alcuni dei nomi prestigiosi che al Paladin Martin di Montesilvano hanno partecipato a Cibo e Salute, convegno organizzato in ricordo di Nicola Salvatorelli, scomparso prematuramente la scorsa estate, medico e titolare del ristorante a Montesilvano Colle, aperto assieme allo chef pluristellato Nicolomito. Abbiamo voluto ricordare la figura di questo medico emerito di Montesilvano, un po' amico di tutti, che tanto ha fatto per il territorio essendo lui il primo ad avere intuito l'abitudine che bisognava inculcare nei cittadini ad una corretta alimentazione legata al buon cibo e al buon gusto. Nel corso del congresso sono state analizzate le tematiche legate allo stress ossidativo, alle intolleranze alimentari, allo svezzamento, l'impatto di una sala alimentazione nella ristorazione, additivi e conservanti negli alimenti, la dieta chetogenica e le vie del benessere. Mio marito è stato un pioniere nella ricerca della sana e corretta alimentazione. Lui iniziò questi studi circa 30 anni fa con grandi difficoltà, non c'era internet, non c'erano tante aziende, quindi veramente ricercando in prima persona quelli che potevano essere i presupposti per una futura sana alimentazione. Qualche consiglio che possiamo dare a chi ci ascolta? Consiglio più semplice è di mangiare poco, di rispettare la stagionalità degli alimenti, di rispettare il ritmo circadiano, in quanto noi la mattina abbiamo bisogno di mangiare tanto e la sera di mangiare poco e soprattutto di ascoltare il proprio corpo. Presentato a Teramo un volume sulle donne nel cantiere di San Pietro in Vaticano, scritto dalla ricercatrice teramana Assunta di Sante, un'opera originale che svela il ruolo femminile nei cantieri del XVI secolo. Tania Bonnici Castelli Presentato a Teramo nella corte della Biblioteca Delfico, il volume è dal titolo Le donne nel cantiere di San Pietro in Vaticano, a cura della ricercatrice teramana Assunta di Sante. Un'opera originale che dà voce anche al silenzioso servizio di donne anonime, grandi artiste, artigiane e semplici operaie che per diversi secoli hanno contribuito all'interminabile cantiere della Basilica di San Pietro. Il ruolo esercitato dalle donne risulta essere stato sorprendente, attive nel cantiere già dal XVI secolo. Accanto alle umili ma forti e coraggiose carrettiere troviamo tagliatrici di pietre dure, vetrare, ferrare, fornaciare, cristallare, indoratrici e capatrici di smalti per mosaici. Artiste, artigiane, imprenditrici patentate già dal 1500, ma delle donne non se ne parla mai, finalmente lei. Grazie, questo libro è il frutto di una ricerca fatta presso l'archivio storico della fabbrica di San Pietro in Vaticano che riporta alla luce l'attività delle persone di cui non si è mai parlato, quelle persone dimenticate della storia, come appunto le donne che già dal 1500 hanno collaborato prima alla ricostruzione e poi alla decorazione della Basilica. La cosa originale sono sicuramente i profili biografici ricostruiti, ma soprattutto quello che viene fuori, cioè viene fuori un mondo del lavoro dove la presenza della donna era riconosciuta come tale. Le donne guadagnavano lo stesso stipendio degli uomini, quindi non c'era discriminazione. Nel caso in cui un operaio, un artista uomo moriva, di diritto il posto veniva dato alla sua consorte oppure a sua figlia. Quindi lei ha raccontato tutto questo in un libro. Sì, un libro che è uscito per l'editore Il Formichiere nel 2017, che oggi ho l'onore di presentare qui a Teramo, nella mia città, che ha voluto dedicare questa giornata di presentazione al libro, prima all'Università di Teramo e ora alla Biblioteca Melchiorre Delfico. Dalla pubblicazione di Assunta di Sante emerge anche la funzione sociale della Basilica di San Pietro, come centro intorno al quale sorsero chiese e ospizi per l'accoglienza e l'assistenza dei pellegrini delle diverse nazioni europee. Adesso apriamo la pagina di Sport. Ovviamente partiamo con la Serie B, con il Pescara e ovviamente con il mercato. Il trasferimento di Carlos Embalo per il momento è congelato. E il risponso del vertice di mercato avuto ieri dalla dirigenza del Palermo e allora il Pescara che ha puntato molto sull'arrivo di Carlos Embalo vira su un altro obiettivo della scorsa estate, Filippo Falco del Bologna, che sta per chiudere la sua esperienza in prestito proprio con i felsinei. Sul fronte uscita è forte interesse del Nizza per Gaston Brugman, per il quale il presidente Sebastiani chiede 5 milioni di euro. Il servizio di Andrea Costantini. Si complica il trasferimento al Pescara di Carlos Embalo. Il vertice di mercato che si è tenuto ieri nel Vare Sotto tra il patron palermitano Zamparini e il DS Rosanero Lupo non ha sbloccato la situazione e la dirigenza siciliana anzi ha congelato la partenza dell'esterno guineano. Ritrosie che sono alimentate anche dalla volontà manifestata dal tecnico Tedino di tenere Embalo, di non volersene privare. Nonostante il modulo utilizzato penalizzi il giocatore, esterno più idoneo per un 4-3 piuttosto che nel 3-5-2 palermitano. E nonostante il calciatore e il suo procuratore siano chiaramente propensi alla destinazione pescara. La dirigenza Biancazzurra allora corre ai ripari e torna a solcare una pista già percorsa, quella che può portare a Filippo Falco, giocatore che già in estate era stato sondato e che anche nei giorni scorsi era tornato sul taccuino dei direttori Leone e Pavone. Come Embalo, Falco piace a Zeman e sta per chiudere la poco felice esperienza avuta con il Perugia nel girone d'andata. Il calciatore farà ritorno al Bologna e sarà poi girato ad un'altra squadra. Il Pescara è tra le società fortemente interessate come lo sono anche Empoli, Carpi e Spezia. Trattativa chiusa invece per il difensore Andrew Gravion. L'Inter ha riportato alla base il giocatore che nella prima parte di stagione era stato al Benevento e poi lo ha ceduto al Pescara, titolo definitivo. Nella foto postata da Gravion su Instagram la firma sul contratto di durata quadriennale è il primo commento da Neo Biancazzurro molto contento per questa nuova avventura con il Pescara. Lunedì Gravion sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni al Poggio. Per quanto riguarda le uscite dopo l'apertura del fronte Benelì per il quale il Pescara tratta con il Crotone negli ultimi giorni i francesi del Nizza si sono fatti avanti per il capitano Gaston Brugman. Ma anche in questo caso il presidente Sebastiani è stato chiaro servono soldi e tanti, non meno di 5 milioni per lasciare andare il centrocampista uruguaiano uno dei tasselli fondamentali nello scacchiere di Zeman solo la soddisfazione di un l'autoprezzo ripagherebbe l'enorme sacrificio tecnico. Intanto con oggi si chiude la settimana di lavoro della squadra che riprenderà lunedì gli allenamenti senza l'attaccante Cristian Capone che da domani sera risponderà alla convocazione della Under-19 e disputerà l'amichevole con i Parietà della Spagna mercoledì a Guadalajara. Salterà dunque il test con il Lugano e tornerà giovedì 18 gennaio a due giorni dalla gara di Foggia valida per la prima giornata di ritorno. Rimaniamo sempre in casa Pescara settimana piena di lavoro in gruppo per il difensore bianco-azzurro Antonio Balzano che si lascia alle spalle l'infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi mesi ed è pronto a giocarsi le proprie possibilità per strappare un posto da titolare con una promessa che è anche un auspicio nel girone di ritorno, dice Balzano faremo meglio, lo ascoltiamo. Beh, io sì, da questa settimana ho iniziato col gruppo praticamente quindi sto facendo tutto quello che fa la squadra poi naturalmente sta al mister decidere se farmi giocare o meno io sono a disposizione e farò di tutto per scendere in campo perché ho voglia ci stiamo preparando duramente come sempre fa il mister ed è giusto così perché è tutto un lavoro che verrà fuori col tempo e anche se si soffre ora se lo si ritrova dopo. L'imperativo è quello di fare meglio possibilmente molto meglio di quello che avete fatto nel 2017? Certo, noi ci proveremo in tutti i modi perché abbiamo le capacità per farlo e se riusciamo a trovare gli ingranati giusti secondo me possiamo fare molto meglio tra il giorno d'andata. A mente fredda cosa non è andato secondo te in questo giorno d'andata per il Pescara? Sempre con questo ritornello di squadra poco zemaniana? Ma a mente fredda, io l'ho già detto nelle altre interviste è una squadra molto giovane e ha bisogno di crescere i giovani hanno bisogno di crescere è sempre stato così ci sono dei talenti che hanno bisogno di venire fuori e per questo è bisogno di tempo per tante altre cose non hanno funzionato ma lavoriamo proprio per far funzionare determinati schemi, determinate sincronie. A proposito di girone d'andata c'è stato anche poi questo problema di tanti infortuni soprattutto in difesa spesso uomini contati. Sì, anche quello non ha sicuramente aiutato la situazione io spero che nell'anno nuovo siano tutti un po' più positivi e vada tutto per il verso giusto perché come ho sempre detto questa piazza merita il meglio e noi faremo di tutto per far sì che questo avvenga. Scendiamo in Serie C adesso ora è ufficiale Momo Sumare non è più un giocatore del Teramo l'esterno nativo della Guinea torna all'Avellino risolvendo in anticipo il prestito e sarà girato dalla società erpina al Dudelange in Lussemburgo. A Vicenza intanto continua a regnare il caos dopo che i giocatori della prima squadra in stato di agitazione si sono rifiutati di andare in campo questo pomeriggio a Padova per la gara di Coppa Italia oggi sono stati i tifosi ad impedire la partenza del Pullman che avrebbe portato i giocatori della Berretti Bianco-Rossa a disputare la medesima gara solo la prossima settimana si capirà se e come alla ripresa del campionato il Vicenza si presenterà al Bonolis per la partita programmata per sabato 20 alle ore 16.30 intanto per il Teramo sarà un sabato questo è una domenica di riposo lunedì la ripresa degli allenamenti noi ascoltiamo il difensore centrale Nebil Kaidi Senti se dovesse come pare perlomeno tornare il Teramo alla difesa a 4 tu come vedi questa situazione tattica che avete già provato a inizio stagione vi sentite un po' meno protetti oppure prendere quel rischio in più ci può stare? No penso che sia uguale dipende dall'atteggiamento che ha la squadra perché comunque se si lavora bene di squadra difesa a 3 o 4 cambia poco l'importante è che l'atteggiamento sia quello propositivo quando si ha la palla però quando non si ha la palla si difenda tutti insieme quindi dopo anche la difesa soffre di meno Se si dovesse giocare la gara del 20 saranno comunque passati più di 30 giorni oltre un mese senza calcio giocato insomma come si ripresenterà il Teramo e quanto è stato difficile superare questa lunghissima pausa? Beh non è facile non giocare perché comunque abbiamo fatto una partita una vittoria esaltante l'ultima quindi era bello sarebbe stato bello proseguire però ecco qualche incognita è normale che te la te la porti dietro perché comunque un mese senza giocare non è che hai hai giocato a settimana prima quindi magari le certezze che hai magari fai un po' più fatica però niente ci prepariamo bene e basta scendiamo in serie di doppio derby alla seconda di ritorno al Dei Marsi va in scena Avezzano va stese mentre a Francavilla arriva il Nero Stellati Pratola che ha appena salutato il tecnico dimissionario Matteo Di Marzio impegni complicati per l'Aquila San Nicolò e Pineto vediamo il derby dello stadio dei Marsi di Avezzano sarà il clou della seconda giornata di ritorno in serie D Avezzano va stese sarà per tanti motivi una gara da seguire con particolare attenzione peccato per la cornice di pubblico che non potrà essere quella desiderata perché sarà una trasferta vietata ai sostenitori aragonesi una decisione che ha lasciato stupiti molti e ha mandato su tutte le furie la presidente Marsicano Gianni Paris sul fronte formazione Giampaolo spera di recuperare a centrocampo Angelo Persia anche se la mission sembra davvero complicata ma recupera al centro della difesa Menna che farà coppia con Sbardella in porta torna Federico Fanti sul fronte vastese invece dopo il K.O. di Viscardi e la partenza di Bagaglini destinazione San Nicolò la squalifica di Iodici aveva messo in ambasce Colavitto che tuttavia in poche ore ha visto arrivare rinforzi come Cane e Maronille per dare manforte alla retroguardia è una squadra organizzata un allenatore che le mette bene in campo è una squadra costruita per vincere per voler vincere il campionato quindi una squadra che secondo me non ha punti deboli non so solo questo che la società mi ha chiesto di mantenere la categoria la vastese non deve vincere il campionato ci sono altre squadre come la Vezano la Bispeso il Matelica il Francavilla il Pinedo cioè squadre corazzate che dichiaratamente hanno detto vogliono intraprendere un ruolo da protagonista è una partita una partita che qua a Vezano si sente molto diciamo come contro l'Aquila è un bel derby dobbiamo prepararla in migliori dei modi già da oggi e per domenica riprenderci i due punti che avevamo perso domenica ieri dobbiamo vincere assolutamente impegno d'alta classifica per l'Aquila che riceve la vista della Vispesaro che appena ha riaperto il campionato attestandosi a meno uno dalla capolista Matelica ieri intanto sono arrivate le parole del patron rosso-blu Corrado Chiodi che attraverso il profilo ufficiale della società ha chiarito i motivi del silenzio della proprietà nell'ultimo periodo la decisione di rimanere in silenzio in questo momento di innegabile difficoltà sostiene Chiodi non è stata dettata dal volersi nascondere ma piuttosto dalla necessità di voler lavorare concretamente per cercare di risanare la società per quanto era ed è nelle nostre possibilità la dimostrazione concreta è che la società sta onorando gli impegni compresi quelli tributari esiste un piano di risanamento al quale si sta cercando di far fronte con tanti sforzi il Pineto invece va al San Marino Stadium galvanizzato dopo la brillante affermazione sul Matelica di sei giorni fa Amaolo riavrà Pomante in difesa ma la trasferta non è per nulla semplice considerando che la squadra di Medri è reduce dal poker appena rifilato alla vastese sul campo quello dell'Aragona sul quale gli uomini di Colavitto si erano mostrati praticamente infallibili dopo il successo all'esordio in panchina per Montani c'è la prova della prima in classifica da superare col suo San Nicolò l'impegno di Materica è complicato ma la prova offerta con l'Agnonese fa ben sperare l'altro derby di giornata invece è quello del Valle Anzuca tra Francavilla e Nerostellati tra i pratolani via la sconfitta col Castelfidardo in casa giallorossa invece sarà certamente assente l'attaccante Bojan Aleksic che nella gara col Fabriano ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra e ha iniziato con lo staff medico il percorso riabilitativo la partita è una partita che temiamo tantissimo che rispettiamo perché è la classica partita dove si ha solo da perdere e noi non vogliamo assolutamente commettere nessun errore perché è una partita dove la dobbiamo approcciare con la giusta mentalità perché altrimenti soffriremo quindi sicuramente di questo ne abbiamo parlato durante la settimana e sono convinto che i ragazzi non sbaglieranno l'approccio la giusta mentalità per affrontare una partita che dobbiamo assolutamente vincere questo era anche il nostro ultimo servizio vi ricordo il secondo appuntamento con il TG6 alle ore 19 per il momento è tutto grazie per la cortesia attenzione buon proseguimento di giornata